a belli buonasera ricordiamoci che abbiamo solo una vita ragazzi solo un'opportunità comandiamo ciao ciao andy ciao ciao buonasera vicchia paolone stasera filosofo buon salve ragazzi come andiamo bene 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 dai benissimo allora ragazzi prima che arriva enfit italia c'è willow wonka che aprirà per lui e il suo socio praticamente benissimo gli sto mandando l'invito a partecipare attivamente quindi vedo che c'è pure ansia nel nel pubblico buonasera intanto a tutti quanti ragazzi mauro naso marco luca ansia se vuoi salire sul palco insomma manda l'invito non so se i ragazzi già ti hanno mandato qualche cosa vedo pure che c'è caracovia grandissimo ragazzi il nostro nick nick sali sul palco e vedo willow wonka buongiorno buongiorno buonanotte buonasera benvenuto buonasera ciao a tutti ciao a tutti ragazzi un piacere essere qui grande grazie grazie a te piacere il nostro buonasera a tutti ragazzi piacere ciao grande ansia buonasera grande ansia ciao buonasera ciao buonasera buonasera ora ragazzi a questo punto dai prendiamo anche spacco sul palco ma sì con piacere vai se vediamo anche eugenio buonasera siete bellissimi ragazzi buonasera grandissimo genio dai siamo carichi sì allora carico quanto il prezzo di bitcoin non dico altro mamma mia squizzato più che carico proprio sì ma infatti ragazzi tranquilli continuate a shortare che non sbagliate nulla vai ragazzi voglio ringraziare gioretta mauro che ci ascolta anche indifferita fantistico ma fantastico mauro grazie mille sei grande mauro grande mauro grandissimo ci ha pure votato siamo i terzi per nella sua nella sua scelta come come podcast non l'avrei non lo sarei mai aspettato grande mauro grazie mille allora ragazzi dai cominciamo polone vuoi cominciare tu comincerei con una domanda ragazzi allora prima primo lì è stato 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 buonasera 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 cominciamo tutti i giorni quindi sai che sei della famiglia potevi tranquillamente salutarci giusto giusto bacino insomma praticamente abbiamo parlato fino a poco fa quindi capito sempre a strada allora dai ci lasciamo no dai grande grande vorrei cominciare subito con una domanda e a questo punto visto che non ci conosciamo ancora bene con willow wonka e partirei da te la domanda è ma gli nft non erano morti non sono morti o sono morti cosa ci dice a riguardo allora bella domanda secondo voi gli nft per noi ti abbiamo invitato tanto per toglierci la patata bollente ah perfetto grazie che ringrazio di questa patatona ogni tanto fa bene riceverli allora niente bando alle ciance gli nft sono morti ma non credo anzi vengono sempre a bussare in modo sempre più forte possiamo dire che più che sono morti si sono trasformati hanno acquisito robustezza nel tempo hanno una community che non è più una community di persone entrate solo per specularci dentro ma piuttosto di collezionatori se lo vogliamo dire hanno acquisito utility hanno superato dei momenti brutti momenti fatti di di scam momenti fatti momenti fatti di di truffe soprattutto di no early quindi si sono consolidate questa questa robustezza che hanno acquisito ha portato ovviamente a a fargli tornare fuori più forti di prima un po' complice la ciccità che è propria della delle varie coin che si vede e soprattutto ha portato anche qualche novità in quanto non si sono fermate alle chain classiche o alle prime come quella di eth ma sviluppate anche su altre chain acquisendo sempre più popolarità per citarne un ultimo abbiamo gli ordinal sono relativamente nuovi ma stanno acquisendo volumi spaventosi guidati sempre dall'onda mitica di c che che adesso sta spingendo sta spingendo forte e ascolta ma quindi hai detto che no qualcosa è cambiato gli speculatori sono rimasti i collezionisti io ti chiedo no l'ondata di nft soprattutto che abbiamo visto nella run precedente è stata soprattutto riguardo alle pfp allora tu ti riferisci alle pfp quando parli di insomma anche di io ti dico a me ha sempre fatto un po' strano vedere queste questo tipo di nft considerati collezionismo perché sono più danno più uno status magari che un oggetto di collezione adesso poi magari negli anni sarà diverso allora ti chiedo questo che hai detto tu ti riferisci a qualche altra tipologia di nft o anche alle pfp allora diciamo che il utilizzo delle varie tipologie di arte all'interno degli nft è molto varia quindi non ci sono solo le pfp le pfp ti danno ti danno la possibilità per chi si muove all'info space di essere conosciuto sotto quella pfp per esempio io se vedete la mia pfp è un bitcoin bandit e diciamo che è in cui faccio delle azioni all'importo su twitter o altro vengono conosciuto come appartenente a quella categoria proprio perché ho quel tipo di pfp ne vedo altri tra questi cari ascoltatori e quello sì non è anche quella ma di collezionismo però diciamo l'arte che si ritrova sui digital collectibles non si ferma soltanto le pfp tant'è vero che abbiamo vari tfp con varie tecnologie proprie che li contraddistinguono che non sono soltanto queste profile picture che vengono spammate di qua e di là quindi rappresentano proprio diciamo una libera espressione di quella che è l'arte e poi che portano al collezionare un esempio è su Solana abbiamo per esempio Drip che rappresenta proprio quella è proprio una forma pura di collezionismo che in modo diciamo scadenziato uscire determinati collectibles che vengono collezionati uno a uno da chi partecipa diciamo attivamente a quel tipo diciamo di progetto quindi diciamo non è solo limitata a quello che può essere l'APD ma si attua attua e cresce crea varie poi ovviamente ci sono anche alcuni NFT che sono soltanto utility quindi comunque diciamo li acquisisci solo per utilizzare un determinato servizio quindi quello va oltre il collezionare però proprio io credo che sia proprio il bello di questo diciamo del web 3 avere la possibilità non solo di scegliere di collezionare quello che più ti piace o delle vere e proprime di arte ma anche diciamo è su come appartenente ad una community o piuttosto che prendere qualcosa che abbia un'utilità vera quindi diciamo questo questo utilizzo della tecnologia web 3 tramite un asset questa è una cosa una cosa grandiosa quindi andare oltre quello che semplicemente può essere lo scambio diciamo di moneta guarda sinceramente sono molto d'accordo su questo che hai detto e vorrei farti una domanda a riguardo prima però ho visto che appena è entrata Spotti Spotti mi dicevo che avremmo dovuto invitarti da subito sul palco colpa mia non l'ho fatto quindi adesso sei nell'audience sali se no sali altrimenti Flame su TG su X dappertutto mi raccomando Spotti è una grande artista NFT ragazzi che poi ci racconterà spero anche la sua la sua esperienza allora in un altro ecosistema un altro ecosistema vorrei fare l'ultima domanda a Willow prima di passare agli altri poi magari i ragazzi prendete anche voi la parola e allora quindi secondo te Willow questo questi NFT stanno davvero facendo importando un cambiamento culturale cioè tu ti immagini che tra 5-10 anni ci sarà insomma il mondo sarà diverso o comunque il modo di interagire che abbiamo anche grazie agli NFT o ti senti di dire ma chi lo sa perché 10 anni sono lunghi questa è una domanda bellissima prego questa è una domanda bellissima allora io ho sempre creduto anche un po' parlando con con Guedro che vedo che lì tra l'altro tra gli ascoltatori ho sempre creduto che ci sia diciamo un gap un gap che può essere un gap tecnologico quindi a oggi dove ci ritroviamo ora che è un punto molto early poche persone riescono a farsi strada attraverso quello che effettivamente noi adesso tocchiamo con mano diciamo nel senso metaforico e effettivamente questa cosa sta creando interesse sempre ogni giorno sempre più una cosa su cui io sempre mi sono soffermato di cui sono veramente convinto è che nel momento in cui verrà colmato quello che è il gap con la tecnologia ci sarà una vera e propria massa adoption e nel momento in cui vedremo una massa adoption allora a quel punto diciamo oltre a beneficiarne per esserci diciamo arrivati molto prima rispetto agli altri verrà fuori proprio un cambiamento anche le attività come vengono svolte all'interno del mondo siamo davvero al momento in una situazione molto molto early anche di questa tecnologia stessa e lo si vede anche dal fatto che il metano all'interno della blockchain cambia giorno dopo giorno settimana dopo settimana vengono sviluppate cose nuove che suscitano interessere e lasciano posto diciamo a quelle vecchie che ormai sembrano quasi obsolete ma nel giro anche di pochissimo tempo diciamo che noi che siamo nello space dalla prima bull run dal 2021 abbiamo assistito effettivamente a un cambio di tecnologia radicale ci sono delle cose che a pensarle ora sembrano delle cose fantastiche ora invece essendo alla portata di tutti sembrano quasi obsolete quindi io sono convinto che nel momento in cui si colmerà questo gap tecnologico all'utilizzo e che tutti riusciranno diciamo a entrare all'interno di questo mondo riusciremo effettivamente ad avere questa massa d'option che ci consentirà proprio un cambio radicale ed effettivamente è una cosa che si può diciamo realizzare soprattutto vedendo le tecnologie che stanno emergendo per esempio ci sono i cnft su solana che si consentono di prendere un nft senza pagare senza pagare neanche dei gas quindi ci sono tecnologie emergenti che effettivamente questo divario lo possono volare cioè raccontami un attimo questa cosa al volo che poi passiamo alla parola in the wolf si allora diciamo su solana nel tempo si sono sviluppate varie tipologie di nft che diciamo sono stati in linea con quelle che erano le esigenze del mercato quindi si è passato da un nft classico che il collectible ora io ve lo ragiono vista più di tecnologia che come effettivamente è solo collezionabile hanno visto che effettivamente chi creava la collezione aveva troppo potere sulla collezione esercitava quindi pressione mantenendo delle royalties alte nel mercato secondario quindi ogni volta che qualcuno l'acquistava c'era una percentuale che andava verso chi ha creato la collezione hanno spinto poi quindi per levare questo momento in cui le hanno tolte è stata sviluppata una tecnologia in grado di obbligare una determinata collezione ad avere le royalties da lì hanno sviluppato i pnft successivamente i pnft hanno sviluppato i cnft cnft sto parlando sempre come c'è in solana i cnft ti consentono di ottenere un collezionabile senza neanche pagare le gas senza neanche pagare per averlo ma averlo completamente a titolo gratuito semplicemente avendo l'app e cliccando un tasto di questi collezionabili vi citavo prima drip come riferimento per esempio c'è questo progetto e tip che regolarmente rilascia dei collezionabili di questo tipo quindi le persone è come se avesse un album di figurino ogni volta ne esce una nuova se la prendo tentano di collezionarla il più possibile proprio perché effettivamente accedere a questa cosa non ha un costo alto perché non ha costi effettivamente ed è facile anche prenderli quindi questo rappresenta una rivoluzione che effettivamente per la mass adoption potrebbe essere una cosa significativa perché comunque avere la possibilità di prenderlo senza andare a prendere dall'ex comprare dal marketplace fare gli scambi con la paura di mandare i token a un determinato indirizzo eccetera eccetera ma semplicemente avendo un app e cliccando mint è un qualcosa di rivoluzionario questo è only possible solana ovviamente grande grande grazie grazie mille per questa bella introduzione davvero grazie mille a voi Wolf Andy volete ringrazioni cose magari con qualcun altro altrimenti io ho un miliardo di domande ma dai no no vai tu Andy vai no vabbè a me allora sinceramente c'avrei tantissime domande anche io da fare ma più che sul lato tecnico sinceramente visto che abbiamo sul palco noto con grandissimo piacere che sono tutti soggetti che utilizzano chain differenti mi piacerebbe proprio sentire un confronto tra di loro per capire effettivamente per quale motivo hanno scelto una chain piuttosto che un'altra e poi le differenze sostanziali sì anche dal lato tecnico se magari ci sono effettivamente poi dopo questa parleremo anche di altro perché a me interessa anche saperne qualcosa di più per quanto riguarda la tokenizzazione degli asset fisici e azionari per esempio quindi non saprei magari partiamo Shadow Shadow vuoi andare tu ci vuoi dire qualcosa di più visto che utilizzi Kronos ma fondamentalmente io dal punto di vista del lato tecnico non è che sono molto ferrato inizio diciamo come pixel artist ecco mi è piaciuta molto la cosa delle figurine fondamentalmente io faccio figurine e le persone le collezionano poi è chiaro dal mio punto di vista è semplicemente la scelta è stata quella di Kronos perché avevo degli amici lì avevo una piccola community di persone con cui mi trovavo molto bene insomma proprio molto affiatati e quindi abbiamo iniziato insieme un percorso facendo diciamo la mia pixel art proprio come artista ho iniziato a provare lì magari ad avere un pubblico un pochino più ampio ci sto riuscendo piano piano sto riuscendo a costruirmi la mia nicchia e niente è una possibilità artistica enorme quella di poter raggiungere insomma le persone sul Web3 è stato molto più semplice ha aperto una grandissima opportunità mi ha aperto una grandissima opportunità come artista digitale è stato molto entusiasmante ho iniziato a conoscere persone nuove da tutto il mondo insomma ti apre veramente un panorama fantastico non solo ho iniziato anche a fare collaborazioni con altri artisti anche in settori diversi ora vedo che c'è Whale qua quindi insomma ho conosciuto tante bellissime persone non solo questo anche diciamo non solo italiani non solo persone ma anche persone oltreoceano che fra l'altro qualcuno ha organizzato le sue vacanze proprio in Abruzzo per venire a trovarmi anche quest'estate quindi dalla Finlandia è venuto un holder proprio per conoscermi per stringermi la mano siamo stati insieme tre giorni la sua famiglia con la mia siamo stati tutti insieme ed è stato veramente un bel momento io penso che a volte la cosa più bella proprio dell'NFT è anche quello di sentirsi parte di una community sentirsi parte di un qualcosa che ci unisce ci unisce in tutto il mondo che poi fondamentalmente penso sia anche un po' a parte tutte le differenze tra massimalisti shitcoin però io penso che le cripto alla fine servano servano anche soprattutto a questo cioè il mondo basta divisioni basta stati basta differenze insomma siamo tutti esseri umani è bello stare insieme crescire insieme scambiarsi opinioni e fondamentalmente penso che sia gli NFT come arte che anche le cripto abbiano questo come ultimo scopo e quindi diciamo per me Cronos è più una una base dove ho instaurato le mie radici quindi diciamo mi trovo bene lì non ho assolutamente nessuna informazione sul lato tecnico quindi tutta una questione emotiva e niente di più guarda vai tranquillo se hai detto comunque delle cose interessantissime e soprattutto bellissime almeno dal punto di vista umano scusa se mi intrometto però siccome ci conosciamo tu hai parlato che fai figurine però vuoi dire in realtà qual è l'ambizione quella maggiore soprattutto dal lato gaming che mi interessa tantissimo finalmente vedo che poi è arrivato anche Enfit buonasera è salito anche sul palco ciao ragazzi buonasera scusate ce l'ho fatta ciao buonasera benvenuto grazie a tutti ragazzi grandissimi tra l'altro come aggiornamento su questa cosa è chiaro pixel art è street fighter è creazione di asset da gioco cioè parto da lì parto con questi quadratini colorati che si muovono che si animano io fondamentalmente non faccio solo immagini statiche ma soprattutto mi diverto a fare immagini animate quindi a mettere i frame uno dopo l'altro per creare un'animazione un po' come al vecchio stile della Walt Disney e l'idea appunto sarebbe quella di creare degli anzi sto creando sto facendo degli asset di gioco cioè quindi ben predefiniti con delle risoluzioni utilizzabili all'interno di un game per poter creare una sorta di role playing game su blockchain quindi intanto ovviamente sto facendo la parte artistica poi tutta la parte appunto tecnica magari anche avendo conoscenze andando a sviluppare appunto la community e conoscendo persone nuove magari troverò qualcuno che mi darà anche questa opportunità o che sarà interessato insomma agli asset che sto creando quindi l'idea sarebbe quella quella bellissima cosa di creare un mondo fantasy poter implementare degli sprite degli NFT che in possesso dell'utente possono essere utilizzati all'interno del gioco quindi diciamo questa sarebbe un po' l'ambizione massima del mio percorso per ora mi sono fermato a creare a creare sprite a creare pixel art tra l'altro adesso proprio ora sto ho iniziato a pensare di lanciare una mia collezione personale e sto e sono stato diciamo ho avuto una commissione diciamo per un progetto importante su Kronos però non posso fare spoiler e quindi creerò degli asset di gioco per questo progetto ci sto lavorando in questi giorni sì grandissimo tantissimi auguri Shadow Wolf tu vuoi aggiungere qualcosa? grandissimo ok altrimenti li diamo parola allora no io volevo riprendere un po' il concetto di cui si parlava prima che secondo me è un concetto tanto particolare quanto è la parte più bella di questo mondo perché solitamente quando noi andiamo a vedere un po' l'aspetto finanziario il mondo finanziario in generale è un mondo forse un po' freddo un mondo dove il mio nome lo dice insomma viene preso chiaramente da un film famosissimo quindi però è chiaro è un mondo di lupi è un mondo dove c'è una interazione umana e bassissima il mondo cripto mi sento di estendere questo discorso ma ora arriviamo anche con l'NFT il mondo cripto si contraddistingue proprio per questa forte umanità che c'è in realtà per questa capacità di creare interazioni fra esseri umani e io personalmente ho vissuto tutto quello che è stato la grandissima bolla degli NFT del 2021 e devo dire che la cosa che mi ha impressionato di più è che è un mondo sì chiaramente fatto di scam fatto di tutto quello che conosciamo insomma questo oramai è risaputo tutto l'aspetto finanziario ma è un mondo che crea community è un mondo che crea legami tra persone dove la differenza geografica di età di religione tantissime persone con le quali interloquisco normalmente per esempio nella community stiamo parlando di una nicchia non so neanche che religione seguono quanti anni abbiano però siamo tutti accomunati da un'idea da un ideale da un qualcosa che ci accomuna ed è bellissimo vedere come poi questa cosa si è in qualche modo evoluta anche nell'ambito artistico io prima di anche prima di essere dentro questa community del del crypto pub non conoscevo tanto l'aspetto artistico era sempre un qualcosa che mi sembrava un po' palliativo un qualcosa che serviva soltanto per andare ad abbellire ad addolcire a creare marketing dietro un progetto però ho scoperto in realtà ci sono delle persone che magari non ci vivono ma lo trasformano in un hobby questo secondo me è l'aspetto più bello in assoluto che non viene spesso fuori nell'ambito degli NFT in questo senso voi vi riscontrate perché poi ci sono anche tanti che sono dei trader di NFT delle persone che cercano un'utilità qualcuno che invece è interessato soltanto all'arte mi piacerebbe giusto per inquadrare per noi ma anche per i nostri ascoltatori ascoltare ognuno di voi due frasi giusto per capire ognuno di voi in che modo si trova se vive il mondo NFT se vi va non so mi sembra secondo me un modo anche per inquadrarci per capire poi a chi chiedere per fare un contraddittorio che ve ne pare si ci sta posso parlare vai pure assolutamente ciao ragazzi buonasera due parole diciamo che con me è un problema nel senso che sono una macchinetta però vi darò semplicemente questa cioè vi risponderò a questa domanda dicendovi che diciamo gli NFT possono come dici giustamente tu essere affrontati sotto diversi aspetti quindi l'aspetto del collezionismo l'aspetto del trading l'aspetto dell'azione l'aspetto dell'utilità eccetera eccetera è giustissima la visione che tu hai dato nel senso gli NFT come hobby e mi piace questa versione qua perché rende il tutto più genuino cioè quello che diciamo vogliamo fare noi come collezionisti di NFT o trader come diciamo nel mondo cryptos è cercare di avvicinare più gente possibile i normis a questo ambiente perché secondo noi diciamo il concetto di NFT è una cosa che è giusta è giusto che venga se non altro diciamo esplorata da tutti perché vediamo diciamo il lungo termine della cosa e quindi ognuno di noi diciamo può decidere di sfruttare gli NFT nel modo in cui preferisce di più cioè se uno ci vuole fare diciamo sopra due flippini si vinta l'NFT ci deve stare dietro diverso tempo se uno vuole semplicemente collezionare gli NFT non richiede nemmeno tanto tempo semplicemente fa quelle due o tre azioni al giorno alla settimana a seconda del tempo che ci può dedicare e si può creare diciamo la sua collezione allo stesso tempo anche far parte di un gruppo di persone una community dove diciamo condividere questa passione mi collego poi chiudo e passo la parola a un altro alla domanda che avevi fatta a Will prima nel senso non mi ricordo chi come vedi gli NFT nel diciamo da qua a dieci anni e la mia risposta è non so di che anno voi siate però a me piace sempre fare questo paragone forse è un po' diciamo esagerato ma perché no dal mio punto di vista i Pokémon dopo vent'anni sono arrivati diciamo oggi ad essere un brand gigantesco e continuano ad esserlo e quindi perché anche non tutti diciamo gli NFT però magari quei progetti che riescono a consolidarsi maggiormente con diciamo con determinati che siano partnership o che riescano diciamo ad accedere effettivamente al mondo tradizionale attraverso collaborazioni perché non potrebbero effettivamente durare così tanto e diventare quelli che sono la Nike del futuro è l'Adidas del futuro qualcuno dice la Pixar del futuro quindi noi siamo nel mondo NFT perché vediamo questa possibilità grande bellissimo questo questo mi sono appuntato anche i flippini perché mi piace dopo i cippini dopo i cippini di Luca che tra l'altro ci ascolta Luca se hai piacere di salire è sicuramente un piacere per noi quindi dopo i cippini abbiamo i flippini li adoro me la sono appuntato questa te la rubo grandissimo grandissimo dai continuiamo questo giro che mi piace vediamo un pochino chi vuole dire la sua vedo che c'è whale whale due frasi proprio per capire qual è il tuo punto di vista noi lo conosciamo però anche per farlo capire ai nostri ascoltatori vai pure ciao a tutti per chi non mi conosce sono musicista e uso gli nft per vendere la mia musica diciamo che il punto io direi che il punto massimo di utilizzo gli nft nella musica lo vediamo con violetta zironi che probabilmente alcuni di voi conosceranno che ha trasformato gli nft in musica come un sistema di coproduzione della sua della sua carriera che è una cosa geniale a mio giudizio in pratica lei vende vende le sue collezioni e le persone che detengono un determinato numero di nft e qui si parla di migliaia e migliaia di dollari hanno diritto a decidere insieme a lei con chiamate mensili la direzione artistica del suo progetto che secondo me è una cosa molto interessante per un musicista perché ti permette di decidere con chi avrai a che fare sostanzialmente però almeno a che fare con gente che mette i soldi sul piatto cosa che con le case discografiche ormai è molto complicato da avere quindi questo è un utilizzo secondo me assolutamente incredibile per gli nft ma è per me solo a pochi scelti a poche persone che si dedicano 24 ore al giorno a questo tipo di attività e poi secondo me per un artista indipendente come me anche per il mio modo di interpretare la musica gli nft rappresentano un sistema efficace per poter vendere dei prodotti da super fan quindi prodotti edizione super limitata che naturalmente non mi renderanno ricco ma ti permettono di creare una base di persone affiatate che comunque ti seguono il tuo percorso e in questo modo trasformi anche il tuo le tue produzioni edizione limitata in delle vere e proprie opere d'arte visive poi come può essere un quadro quindi è una cosa che sostanzialmente con la musica digitale finora non era possibile quindi questa è la mia visione per la musica e mi piace molto grande grandissimo Will buonasera grazie di averci raccontato questa cosa che appunto noi lo sappiamo ma spero che qualcuno che non lo sapeva ti abbia ascoltato perché anche da questo punto di vista è una rivoluzione davvero culturale anche in ambito musicale andiamo avanti vai Will che hai la mano alzata eccomi eccomi guys allora niente posso dire la mia sulla parte diciamo hobby che è un bel argomento da trattare volevo dare mia vista semplicemente diciamo che per quanto mi riguarda è nata più che una passione o altro come un qualcosa a scopo finanziario e basta e poi successivamente un po' grazie alla community un po' grazie diciamo al fatto che ho approfondito di più è diventata qualcosa di più trasformandosi effettivamente in un vero e proprio hobby non posso negare che metà della mia giornata la passo loro l'altra metà la passo sulla community di nft questo è un qualcosa che comunque mi ha creato un cambio diciamo della vita radicale tra i suoi pro e portato a corsone persone che poi alla fine un po' di loro si sono ritrovate anche al mio matrimonio per esempio questa è una cosa fantastica perché se ci pensate sarebbe stato impossibile anche solo conoscerli senza questa nuova tecnologia quindi sia un hobby però un hobby che accomuna le persone come diceva Wedro prima che magari prima era di diciamo un po' incontrarsi cui si avevano degli hobby particolari in questo caso l'hobby di nicchia diventa qualcosa più accessibile che ti permette di fare nuove conoscenze di legarsi in discorso fatto un po' anche dagli altri e questo secondo me è una novità ma qualcosa in cui credere che sicuramente ha delle potenzialità non banali per il futuro cavolo guarda queste storie che stiamo ascoltando fantastico immagino che anche quando se ne parla fuori con i normis come dicevamo prima di NFT questa parola fa sempre storgere molto il naso invece cacchio quello che si sta creando è una roba fighissima tra l'altro vedo che nell'O10 c'è ATH.if che non conosco ma mi sembra un buon dominio da avere e vedo che Andy hai la mano alzata prego prego vai pure sì prima di continuare il giro perché vorrei sentire pure ovviamente ansia e Web3 Manager che sono saliti sul palco già da un po' volevo salutare Luca e chiedergli ma braccia gambe ma soprattutto hai già rasato la testa no non è ancora non è ancora ora la scommessa parlava chiaro chiusura settimanale ragazzi non è possibile cambiare i termini e condizioni ma mi sa che lunedì non si scappa ci vogliamo come collina Luca Luca sono tutti invidiosi della tua chioma e per quello anzi fate la credito così smetto di insultare solo ragazzi è da 34 anni seriamente che dico prima o poi mi raso a zero prima o poi mi raso a zero ma non ho mai avuto le palle di farlo e adesso ho trovato il motivo per far sì che sia il destino decidere e non io quindi si farà o Gary o Gary si diventerò come Gary più che il destino farò la controfigura di Gary poi comunque oggi squat grazie ah benissimo infatti si sente che c'è una musica tipicamente da palestra è la musica o da palestra o da estetista però non immagino insomma in quest'ora non ci sono ancora arrivati magari prima o dopo la rasatura c'è una ciarezza lo so non c'è limite come lo fai come fai a sapere la musica poi ce lo racconti no ti ho perso non ho sentito sì Paolone ti abbiamo perso un secondo infatti volevo liberatela volevo sapere mi sentite adesso sì perfettamente benissimo come fa sapere che musica c'è dall'estetista ma la facciamo un'altra sera questa domanda magari c'è la playlist di Spotify music come c'è quella Elevator Music c'è la musica da estetista vabbè grande Luca sei stato un ottimo avvocato per Wolf comunque sì 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 dai gliene dovevo una lo dovevo salvare grande Luca che mi ha aiutato perché io nel frattempo non riuscivo a mettere il cazzo di microfono perché poi arriva nei momenti peggiori il bug di Twitter no comunque è vero esiste la playlist estetista trendy che insomma ti vai a prendere tutte quante le canzoni le preferite va bene allora Luca poi vogliamo sentire io vado a veder io vi ascolto con molto piacere sarete il sottofondo dell'allenamento grandissimo ogni tanto entro anch'io a dirle tra una serie e l'altra se non collasso prima ma sì anche perché tu tempo fa avevi fatto un video sui NFT e volevo volevo sapere anche un po' la tua no se era cambiata un po' la tua visione che cosa cosa ne prendi un po' di questo mondo in realtà non è cambiata cioè sono un osservatore interessato ma non non attivo perché sono ancora un po' titubante non investitore proprio perché sono appunto molto titubante anche su quello però sto osservando appunto i vari casi d'uso al di là di quelli artistici anche casi d'uso diciamo un po' un po' più particolari come NFT finanziari NFT come parte di DAO insomma però ripeto non lo so io sono un osservatore esterno ecco per il momento agnostico ok dai poi ci racconti la tua storia con gli NFT perché chi ti segue da tempo sa molto breve io ho solo un cucchiaio NFT è l'unico NFT che ho esatto ti ho chiesto questo perché il nostro Andrew è proprio sul gruppo a script Luke prende solo i cucchiai solo cucchiai intoccabile quel cucchiaio è la massima espressione artistica si si lì è arte è proprio c'è un cucchiaio così bello non l'ho mai visto aspetta ma comprata a quanto 0,5 TH tipo l'MFT costava poco tipo 15 dollari il problema è che ne ho pagati tipo 90 di gas fee meraviglioso esatto esatto vedi questa è una cosa che mi fa questa è una cosa che mi fa riflettere immaginiamo di dover spiegare al nostro nonno che tu hai comprato con 105 dollari l'immagine è di un cucchiaio ok come la spieghereste ragazzi c'è questa questo concetto poi è chiaro che dietro c'è tantissimo altro però una cosa del genere come come si può spiegare a chi non è nativo digitale uno che diceva che dovevi andarci a mignote e basta e poi smette di ascoltare capito classico infatti sicuramente mi riempie di sberle se gli dicono e diceva che cazzo di nipoto è stato partorito ti diseredo a me avrebbero detto inciputivi a cattaluvin spero non ti abbiamo sentito ti abbiamo perso proprio nel momento dell'insulto no 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 avrebbe detto inciputivi a cattaluvin bravo esatto esattamente quella è giustamente la domanda va bene dai continuiamo continuiamo con i ragazzi perché abbiamo tantissimi ospiti e tantissime storie da ascoltare Paolone a chi diamo la parola andiamo ad ansia che allora ansia prima domanda sicuramente ma perché ansia e poi niente poi raccontaci come diceva Wolf la tua la tua visione dai allora buonasera a tutti ragazzi buonasera ciao grande ansia e ansia chiedendo scusa in tutto già dall'inizio perché a quest'ora potrei dire o dare un'impressione sbagliata avendo già fumato troppo quindi siamo al pub tutto è lecito ecco il perché dell'ansia diciamo è il mio soprannome nella vita reale è stato proprio il primo approccio su Ethereum per registrare proprio l'ens anche perché io anche essendo piccolino diciamo seguo bitcoin da parecchio tempo ed ero una di quelle persone che seguiva sempre e solo bitcoin odiando tutto il resto quindi era quello che vedeva Ethereum a 30 60 dollari e dicevano tanto fallisce no aspetta questa no no questa è interessantissima no no ma infatti questa è interessantissima non ho mai visto massimalista che è diventato tra virgolette shitcoiner quindi ti prego continua poi ti passo la lista in privato in quindi sì parliamo anche nel 2021 diciamo quando c'è stata la Burran parlo degli NFT io ero la persona che ad ogni vendita li guardavo e dicevo ma questi sono pazzi questa è tutta una truffa perché diciamo che io personalmente tralasciando il discorso arte ancora ad oggi penso che non spenderei nemmeno 5 dollari per una Bored date perché ad oggi stiamo cioè almeno io sono in questo mondo perché stiamo assistendo ad una trasformazione secondo me che è quella dalla semplice speculazione di arte digitale a quella di vera arte o di utility come si parlava prima perché ad esempio io ho sempre visto anche una Bored date prendo quelle come esempio come una semplice persona brava a disegnare che poi c'è stato quello dietro però io non ho mai visto tutta questa arte tralasciando l'utilità delle feste e di tutti gli eventi che fanno e del marchio che hanno assunto quindi ad oggi io ero entrato e sono entrato nel mondo NFT come semplice speculatore e trader se così si può chiamare poi ne sono rimasto innamorato avendo scelto il momento di questa transizione ecco almeno secondo me dove ad esempio che sia un grande artista o che sia un'altra persona o pezzo singolo e quel pezzo singolo ha più valore di una collezione cosa che secondo me qualche anno fa non sarebbe stata possibile poi non lo so per me anche ad esempio pensavo alle domande di prima quando dicono gli NFT sono morti per me non lo so siamo anzi per me ancora devono nascere ecco gli NFT per me questo è ancora tutto è solo un gioco è come quando ho visto la prima volta internet negli anni 90 ecco sì tutto bellissimo tutti ci vanno ma nessuno capisce veramente quel potenziale perché è inimmaginabile interessante quindi pensi che siamo ancora nella bolla che c'è che ancora non è scoppiata praticamente io penso all'NFT come tralasciando diciamo il discorso d'arte del quadro come proprio il vero e proprio discorso della proprietà cioè io mi pongo sempre le domande tornando per esempio alle domande di prima dei Pokémon acquisteresti un Charizard PS10 o acquisteresti un NFT dei Pokémon originale se ci fosse di Charizard cioè io in quel caso comprerei sempre un NFT anche per un discorso temporale che non si rovina di sicurezza di proprietà oppure come potete pensare le cassette in banca non so se avete mai visto le storie dove sono scomparsi oggetti in cassette in banca e ci sono leggi dove che vi tutelano tutelano sia voi sia la banca se scomparre qualcosa da quella cassetta anche la banca è tutelata in quel caso detenere l'NFT di quell'oggetto che è di valore che in cassetta lo renderebbe anche se non inutile perché conosciamo come va il mondo comunque è più complicato comunque resterebbe la proprietà a te io la vedo ecco come una cosa molto e fino a poco tempo fa non pensavo nemmeno che diciamo il discorso artistico potesse continuare me ne sto ricredendo ad oggi vedendo questi artisti come Jack come altri che non nomino che veramente mi hanno fatto appassionare cioè qualcuno se mi conosce ha visto che ogni tanto faccio qualche creazione ecco io prima di questo non avevo mai fatto nulla non sono nessuno non sono un creatore non sono un professionista faccio tutto tra virgolette per gioco per passione e per sfogare la mia ansia grande grande guarda hai detto delle cose molto interessanti tra l'altro io credo che insomma ha molto senso pensare che tra non molto tutti i beni di un certo valore avranno il loro corrispondente corrispettivo digitale certificato dalla blockchain che darà un'ulteriore sicurezza e di questo magari poi approfondiamo allora ragazzi ci sarebbero prima Web3 Manager e Washi però visto che sia allora Washi a meno che tu non sia una ragazza che può darci sì grandissima Washi mi sono salvato al pelo la parola a Spotti e invece allora dai visto che c'eri tu sul palco vai pure ci racconti che cosa sono per te gli NFT Paolone forse non si è capito però esatto a chi ti riferisci Washi forse Washi Washi scusami ma Washi intanto buonasera e benvenuta al CryptoPub ragazzi abbiamo dimenticato la cosa più importante Paolone che succede in carcere cosa ti è successo hai ragione hai ragione me l'ero scritto poi mi sono dimenticato di dirlo ragazzi diamo un bel retweet alla stanza mi raccomando assolutamente perché siamo già in abbastanza ma a noi ci fate insomma ci fate raggiungere più persone possibili costa un click e fa davvero la differenza lo sapete come funziona pulsantino in basso dei commenti a destra e poi arriva lo space lo potete retweetare grazie mille ragazzi vai pure Washi ciao ragazzi buonasera anche se da me ormai è notte fonda visto che sono in Thailandia divertirmi cosa è successo mi hanno condiviso questo pub questa cosina qui quindi ho detto entro mi diverto visto che non parlo molto con italiani di solito e allora così mi piace conoscere gente nuova quindi buonasera a tutti grande buonasera buonasera un attimo quindi prima quella che risposta una donna è stata Spotti ma Spotti lo sapevamo no no era semplicemente una ragazza qua bellissimo guarda che grande davvero cioè questo 9,9 e mezzo applauso grandissimo Washi scusa facciamo 10 facciamo 10 cacchio vai pure non lo so cosa devo dire insomma che sono per te cioè tu magari insomma cosa sono per te gli NFT se se ci lavori se ti interessano se sei qua invece solo per ascoltare ma comunque raccontaci cosa sono per te gli NFT cosa sono beh io sono NFT trader 24-7 sono partito da zero ho buildato un po' quella che è la mia liquidity e adesso vivo all'estero viaggio molto ho fatto cose incontro persone quindi diciamo che gli NFT sono la mia vita al 100% cavolo bellissimo vieni ragazzi io sto sbagliando qualcosa dovevo essere io in Thailandia invece c'è Washi grandissimo grazie per aver condiviso questa cosa ragazzi lo dico a tutti in generale se volete dire qualcosa bravo devo dire Web3 Manager alziamo la mano sì ma infatti con Web3 Manager ci possiamo ricollegare benissimo agli ENS di cui ha già anticipato qualcosa ansia quindi prego Web3 sì praticamente innanzitutto volevo salutare Washi che ha trollato tutti con quel sì iniziale perché credo che eri tu forse vabbè ero vabbè sì è vero ah no ok allora niente praticamente volevo focalizzare la mia attenzione sugli ENS che è un protocollo allora un protocollo decentralizzato che dà la possibilità agli utenti a noi di personalizzare di creare a piacimento il nostro primary address il nostro indirizzo quindi appunto noi sappiamo che quando abbiamo quando noi creiamo un wallet Ethereum Bitcoin insomma di tutte le blockchain ecco abbiamo un indirizzo alfanumerico che è quasi impossibile da ricordare con gli ENS che è l'Ethereum Naming Service hai la possibilità di registrare di mintare ecco il tuo dominio personalizzato questo che che vantaggi dà allora sicuramente ti dà la possibilità di essere facilmente riconoscibile come ad esempio prima ad esempio ho fatto l'intervento ansia.eth ansia.eth come ad esempio tanti altri gli ENS sono molto maggiormente facilmente riconoscibili rispetto a agli indirizzi che che di default ecco ci vengono ci vengono assegnati quando noi creiamo un wallet allora aspettate un attimo che prendo la scaletta perché mi ero preparato una piccola scaletta allora sì quindi con gli ENS tu ti puoi creare una propria identità digitale perché funziona come un single sign on cioè praticamente tu impostando il tuo ENS come primary address colleghi praticamente quell'ENS e fa sì che quello diventa il tuo nome in quella determinata blockchain ad esempio io ho web tree manager per cui se voi dovete mandarmi dei pagamenti o io devo fare dei pagamenti a un terzo in Etherscan verrà fuori che web tree manager ha incassato o ha ha movimentato ecco ha pagato determinati fondi ha fatto una transazione quindi questo dà molti vantaggi ecco nell'utilizzo del web tree naturalmente ci sono molte potenzialità perché è un investimento io credo a lungo termine perché non è che domani si possa flippare cioè da un giorno all'altro si possa flippare un ENS così alla cavolo io credo che magari in 5-10 anni prima con l'avvento ecco con l'avvento ecco della mass adoption di Ethereum di Bitcoin successivamente le persone avranno sentiranno l'esigenza di rendere più comoda più accessibile la loro esperienza e quindi questo con gli ENS o magari anche con i surrogati degli ENS ad esempio ci sono gli unstoppable domain però a mio avviso non per giustificare i miei investimenti visto che l'Ethereum name service fatalità ha come estensione l'ETH che è che è appunto il simbolo dell'iter di Ethereum allora un po' di numeri allora scusa un attimo hai detto unstoppable domain sarebbe il .x sarebbero sì praticamente loro ti danno più più ipv e estensioni in teoria .x credo altre estensioni comunque non ho nomi .crypto .nft .wallet esatto credo di sì comunque allora adesso ad oggi gli utilizzatori sono circa 800.000 quindi 800.000 persone hanno hanno mintato il loro dominio per cui in totale e in totale ad oggi ci sono 2,3 milioni di indirizzi e 600 quasi 700k di primary addresses cioè praticamente 700.000 persone o anzi 700.000 indirizzi primary e sento un po' di disturbo abbiamo avuto un piccolo disturbo che è appena stato risolto vai pure perfetto niente allora per quanto riguarda i costi allora per chi è già è già già utilizza gli ENS saprà che allora il minimo il minimo della lunghezza sono tre caratteri per cui ci possono essere allora sia i digit cioè praticamente solamente numeri ad esempio 123.eth 000.eth ma anche da tre in poi quindi ad esempio tu puoi mintare numerici alfanumerici o solo letterali per cui voi potete mintare quello che volete e quindi allora i costi di rinnovi sono 640 dollari all'anno per i per i tre i tre caratteri 160 per i 4 e 5 dollari per quelli più lunghi dai 5 caratteri in poi naturalmente quelli più diffusi sono sicuramente gli ENS più lunghi più che hanno più combinazioni diciamo e questo fa in modo che sono nate anche più sotto collezioni ecco delle collezioni più piccole all'interno della grande famiglia degli ENS perché se facciamo i calcoli ci sono 9999 numeri anzi c'è praticamente la famiglia dei tre digit cioè praticamente i primi 100 domini i primi scusate i primi 1000 domini in etirium cioè da 000.th a 999.th c'è la famiglia di 10.000 quindi dai dal 0000 4 volte 0 a 9999.th e così via dicendo per cui ci sono delle collezioni delle sottofamiglie ecco a questo dentro questo protocollo qui comunque facendo un piccolo riassunto vabbè io praticamente ho incominciato a investire quasi due anni fa negli ENS e ho trovato la potenzialità perché dà una dà una utilità reale soprattutto nell'utilizzo del web 3 per cui questo avrò avrà dei risvolti positivi magari non domani non dopo domani ma nel giro di qualche anno sicuramente possono possono svoltare possono rendere veramente rivoluzionare la nostra esperienza già tante aziende e già tante persone anche hanno mintato il loro dominio ad esempio l'esempio più più uno dei più celebri è Puma.th che che ha impostato il proprio primary address e ce l'ha appunto come nickname qui su Twitter in ultimo vorrei fare un pensiero e dire che praticamente visto che l'Europa sta pensando in sede europea si sta pensando alla creazione di un wallet unico europeo all'EU di Wallet European Digital Identity io credo che se vogliono creare l'euro digitale adesso non mi intrometto in questi discorsi qua sicuramente avranno bisogno di una blockchain anche perché non hanno non hanno storto il naso ecco alla possibile integrazione di una blockchain in questo futuro wallet europeo naturalmente si parla di 2030 non lo so dal 2026 in poi io credo che se le persone si approcciano sempre di più alla blockchain all'utilizzo della blockchain e hanno interesse anche e c'è l'esigenza sempre più concreta di non avere i propri dati memorizzati presso più entità presso tante entità come ad esempio succede adesso in ogni sito tu devi fare il login con il tuo utente con la tua password devi ricordarti ogni volta la tua password per ogni sito in cui entri e io credo che le identità dei centralizzati giocano un ruolo possono giocare un ruolo fondamentale in questa ottica quindi tu con un singolo nome hai la possibilità di autenticarti in più portali con tutti i benefici che ne derivano dell'anonimato della decentralizzazione con la rapidità dell'utilizzo di questa tecnologia grazie mille diciamo così dai come vuoi essere chiamato webtree no dai scherzo scherzo chiamatemi come volete webtree manager quello che volete va bene allora webtree manager allora io prima ti ringrazio di essere molto cacchio preparatissimo adoro chi ci prende a mente uno dei pochi grazie mille e prima di passare la parola a Will poi a Spotti che ha la mano alzata ti chiedo in 30 secondi però 15 magari e sugli ENSE puoi anche costruire il tuo sito web non censurabile e l'hai provato ci sono differenze con i siti web tradizionali chiedo per un amico allora sì so che che attualmente allora attualmente se tu cerchi un qualsiasi dominio ENSE sul browser come URL tu in pratica non funziona perché l'estensione TH ad oggi non è riconosciuta dalla ICAN che è l'agenzia internazionale per la registrazione delle estensioni URL so che con dei determinati resolver con dei siti di terze parti con delle estensioni Chrome tu hai la possibilità di rendere leggibili anche gli ENSE su Chrome o su altri insomma su internet anche se però devo approfondire questo discorso magari può essere che in futuro possa essere riconosciuto il TLD punto ETH sì credo sicuramente magari Willow scusa Paolone perché ricordo di aver parlato con un Enfit e penso che lui sia da computer e non riesca ad alzare la mano visto che lo vedo salutare da diverso tempo suppongo che voleva intervenire per dire qualcosa al volo al volo in Fit poi ragazzi scusate speravo che capiste la cosa del saluto scusate non posso farlo da PC comunque volevo fare semplicemente un'aggiunta sul discorso degli ENS lato solana nel senso tiro acqua al mio mulino visto che sono dell'altra fazione e i domini su Sol hanno diciamo le stesse caratteristiche di domini su ETH la differenza è che a parte diciamo il costo iniziale che si può fare diciamo un acquisto tramite Bonfida a una ventina di dollari circa non c'è il rinnovo annuale quindi in un'ottica speculativa conviene sicuramente di più andare ad acquistare domini punto Sol o tutte le categorie poi sotto categorie quindi punto ABC punto Bonk o ce ne sono diversi di conseguenza io immagino una persona che speculando sui domini di Ethereum debba pagare le commissioni annuali su ogni singolo dominio finché diciamo qualcuno non arriva a comprarli potrebbe essere dispendioso volevo poi anche sapere se c'è un sistema per evitare di dover pagare tutti gli anni questa questa tassa basta interessantissimo sicuramente è un punto a favore per quanto riguarda i domini Sol chi c'era poi Spotti giusto Paolona rimaniamo così chiudiamo l'argomento insomma Enz quindi c'era Will con la mano alzata e poi passiamo ad Ansia poi vedo che anche lui ho calzato la mano immagino riguardo l'argomento e poi dopo passiamo abbiamo scatenato abbiamo scatenato il panico allora niente volevo giusto dire la mia riguardo ho avuto a che fare con i domain sempre su Solana come consigliava il mio socio Guedro il mio punto di vista è che a oggi c'è stata lato solo almeno un'evoluzione di questi domain quindi si parlava prima di domini di digit di domini quindi numero di lettere volevo anche dire che è disponibile anche su Bitcoin per chi non lo sapesse ci sono i domini .satz che sono stati sviluppati recente quindi apro e chiudo parenti esiste un sito che si chiama oldomain.id che vi consiglio ovviamente di andare a vedere a tutti dove ognuno può creare il proprio dominio quindi se io voglio creare .nft lo posso fare e con un solo dominio potete inserire tutti i wallet che volete di tutte le chain quindi non siete pegati al .eth ma io mi creo il dominio .willowonka e da domani tutti voi potete acquistare questo dominio e collegare tutti i wallet se voi spaziate tra più chain con un unico nome e un unico dominio potete tranquillamente ricevere diciamo denaro o scambiare gli asset solo con un unico nome senza dover essere legati a una chain mi tiro anche acqua al mio consolana si parlava prima di moneta europea utilizzo della chain io fossi l'Europa non utilizzerei una chain dove mi tocca pagare tantissime fees per mandare una transazione anzi suggerirei l'utilizzo di solana per l'appunto ma credo che dal punto di vista lcbdc la blockchain sarà privata non sarà permissioned sarà molto probabilmente permissioned per cui e soprattutto non sarà trasparente a noi ma a loro e questo penso che lo sappiamo luke volevi aggiungere qualcosa al riguardo c'era ansia prima rimaniamo ah ok perché non ho visto più la mano alzata scusate eccomi eccomi no volevo rispondere solo al al discorso dei domini sol che si pagano soltanto una volta in realtà se non mi sbaglio anche se io non ne detengo nessuno anche i domini punto x si pagano soltanto una volta e non si rinnova però credo che questo sia un discorso non molto rilevante perché se ci pensate parliamo sempre di domini in fondo lasciando stare le speculazioni se guardate i domini del web 2 la gente li paga da anni e continua a pagarli ed è contenta solo questo è contenta diciamo che lo fa perché lo deve fare più che contenta però giusto insomma un servizio si paga se è un servizio che forse però insomma sono d'accordo ovviamente ovviamente certo ansia vai pure Luke guardalo che è lì che pompa che macina degli squat ti sei se no andiamo a web 3 manager sì è una piccola integrazione praticamente quando quando tu sei cioè sei il proprietario di un dominio hai la possibilità di impostare il tuo nome anche in più blockchain per cui non è che solo sulla blockchain di ethereum hai quel determinato dominio infatti infatti gli ENS il bello degli ENS è che si possono integrare anche con tantissime altre tantissime altre blockchain per cui anche nella blockchain di bitcoin appunto puoi dire basta che mi mandi i soldi ecco a non so web3 manager punto eth per cui magari ecco il risvolto positivo è che hai un unico nome per più blockchain sì sì giustissimo ma poi probabilmente in futuro vedremo questa cosa della crosschain su tutto quanto ma allora luca se ci sei batti un colpo se no andiamo siamo tornando grande cazzo mi avete preso tra una serie e l'altra proprio no io volevo dire una cosa seria una stronzata e cioè inizio con quella serie io in realtà avevo deployato un sito su ENS e è abbastanza cioè abbastanza cancer da utilizzare tutto perché dovevi deployare sui pfs e poi serve comunque un browser o qualcosa che ti risolve il dominio mi pare che brave lo faccia se non ricordo male e comunque sui pfs ovviamente hai delle performance minimamente comparabili col web2 ecco quindi l'ho fatto per gioco ma poi lato utilità cioè a meno che non fai proprio dei casi d'uso non so immediati semplici senza nulla di che è abbastanza improponibile come soluzione e scusami ma non si può usare direttamente il wallet per visitare il sito ogni wallet ha un browser no? ma io mi ricordo che cioè sì probabilmente sì però per diciamo per farlo utilizzare a profani tra virgolette l'unica soluzione è un browser ibrido tipo brave perché sì da wallet tu di fatto penso che puoi risolvere un dominio ENS un dominio web3 però da browser no cioè era un po' quello il discorso a me piaceva l'idea volevo provare appunto a deployare il sito mio anche su web3 proprio per dire l'ho fatto ma poi di fatto serve comunque un'infrastruttura appunto serve brave serve qualcosa di simile quindi era abbastanza infattibile e invece no l'altra cosa sempre seria in realtà mi ricordo che c'era stato un dibattito tra quelli di unstoppable e quelli di ENS per un discorso di brevetti forse e infatti cioè lì mi viene da pensare quando si parla appunto comunque di domini web3 cioè ci sarà uno standard unico più standard e come saranno interoperabili cioè quelli punto sol punto eth cioè se si crea frammentazione anche lì secondo me è un delirio e non si va da nessuna parte e invece la cazzata è che volevo andare adesso vado a scuotare tutti i domini punto bonk e i pin su tutti i domini punto bonk grandissimo una mossa niente basta io l'ho detto insomma non lo so cioè per ora secondo me è ancora estremamente immaturo il mondo della web3 ID ed è molto chain specifico e ovviamente è la nicchia nella nicchia cioè il profano non lo può ancora utilizzare a meno che appunto non riesca interagire in qualche modo con l'infrastruttura e comunque ci sono delle performance ancora pietose l'ITFS è ancora abbastanza inutilizzabile su scala suppongo che poi comunque si costruiranno delle soluzioni per risolvere tutto ciò ed è proprio interessante il fatto che noi siamo veramente così early pensando a queste cose sicuramente sarà interessante perché come hai detto tu hai dato un'ottima ipotesi cioè il fatto dei vari domini che devono essere intero operabili tra di loro cioè come per esempio che noi possiamo utilizzare sempre google chrome per visitare sia .com che .it che .org dovrebbe esserci comunque una soluzione per diciamo tutti i domini si succederà sicuramente non ci sono dubbi dal mio punto di vista a riguardo vai vai Gaudè e poi finalmente passiamo a Spotti buonasera buonasera mi sentite buonasera 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 caro ciao Clark un saluto a tutti i ragazzi e tutta la compagnia del CryptoPab come state? sono seduti sono seduti ragazzi sei un grande poi vi lascio vi lascio continuare la la magnifica serata che state portando avanti gli NFT non sono morti non moriranno ma anzi saranno saranno tema del del prossimo futuro li utilizzeremo senza sapere senza sapere che li stiamo utilizzando la proprietà digitale sarà sotto forma di NFT e continuiamo a costruire continuiamo a buildare continuiamo a a creare e a parlare di questo tema importantissimo i nostri i nostri figli i nostri i nostri i nostri bambini giocheranno a videogiochi e riusciranno a comprare NFT skins e tutto quanto senza però sapere che che stanno comprando NFT e riusciranno anche a venderli in futuro quindi ottimo tema gli NFT sono sono il futuro della 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 blockchain in termini di eh come si dice eh in termini di proprietà digitale e dobbiamo veramente parlarne un giorno su due grazie grande gaude bello carico sono grandissimo sempre bullish cazzo mi fa entrare una bullishness dentro proprio grande grande gaude e allora eh Wolf io finalmente direi di passare a spotty allora assolutamente eh oggi del crypto pub credo dal giorno due o tre comunque praticamente dall'inizio e niente tra l'altro ha appena lanciato eh la prevendita di una sua collezione ragazzi che definire una collezione nft per quanto ci piacciono gli nft è eh insomma non non rende giustizia eh sì sto oscillando ragazzi venite a farmi causa al solito e spotty tra l'altro io ti chiedo di eh se vuoi eh postare nei nei commenti per far vedere far capire davvero della della qualità delle cose che fai sia eh insomma perché sono delle robe fighe che io non avevo mai visto fare prima detto questo buonasera benvenuta raccontaci che cosa sono per te gli nft e come stanno cambiando il tuo modo di fare arte eh ciao a tutti eh per me gli nft sono innanzitutto un gran divertimento ehm perché sono mi sono avvicinata al mondo degli nft ehm perché sono dei simpatici disegnini e e fin dall'inizio eh pensavo poi di poter usare questo questa possibilità eh per eh anche per la mia arte io sono un'artista tradizionale quindi faccio acquerelli dipingo faccio cose fisiche e e grazie al mondo sia del web 3 quindi quello che si diceva prima le community la possibilità di entrare in contatto con eh persone di tutto il mondo ehm ecco queste cose qui nel mondo del delle cripto sono effettivamente possibili e e quindi ti dà eh una delle opportunità che altrimenti eh avresti con grande difficoltà eh si dice spesso che il web 3 e il mondo degli nft eh siano il modo per ehm in qualche modo superare i famosi gatekeepers che possono essere nel mondo dell'arte magari i eh i galleristi i critici quelli che eh fanno la scelta eh su chi promuovere e chi no chi costruire e mandare avanti eh invece con eh il web 3 e gli nft eh ognuno può cercare di farsi un proprio gruppo di di appassionati di di collezionisti magari cose da poco però eh e la cosa divertente è che comunque sono persone eh che sono in tutto il mondo ma io avrei pensato che le mie opere potessero andarsene in Canada negli Stati Uniti in Brasile in Olanda non so da tutte le parti ehm e quindi per quel che mi riguarda l'nft eh diciamo che siccome io eh le collezioni le vendo come nft ma hanno il riferimento all'oggetto fisico e quindi eh l'acquirente poi può chiedere l'originale a quel punto l'nft diventa un certificato di autenticità e e di e di possesso sì uno ha l'oggetto fisico però all'nft dove ci sono i metadati e dentro sono segnate le informazioni rispetto all'opera e e infatti eh adesso con questa collezione che che sto per lanciare eh uno dei miei collezionisti eh diciamo affezionati eh che ha già preso altre opere di collezioni precedenti e ha deciso di acquistare anche questa che la prossima collezione è fatta da fular di seta dipinti eh e quindi la gente si comprerà l'nft e poi si farà spedire il fular eh e questa persona mi diceva che eh lo regalerà per Natale eh a una persona eh che è timorosa rispetto alla tecnologia e quindi eh spera che facendo vedere come ci sia questo legame tra anche con un oggetto fisico possa in qualche modo eh diciamo ammorbidire questo timore verso eh il mondo delle cripto e e secondo me ha delle buone possibilità perché eh diciamo che è un esempio semplificato è un esempio semplice e anche eh comodo perché diciamo che tutti capiscono che cos'è un certificato di autenticità e e quindi si avvicina di più a a un caso d'uso molto molto concreto ecco e tra l'altro se questo magari è un lui che vuole regalarlo alla sua lei finalmente giustificherà la sua tutte le ore spese eh sul pezzo qua a studiare il mercato con un bel regalo grande spot mi raccomando adesso ora metti il tweet magari in cui hai raccontato anche come li fai questi pulare nei commenti per piacere che lo mettiamo in sovraimpressione giusto per dare l'idea di eh quello che che fai scusa Andy vai pure che avevi la mano alzata no eh io volevo un attimo soffermarmi su un punto in particolare che ha detto Spotti che mi ha fatto pensare tanto in questo in tutto questo momento eh e lei ha parlato proprio di superare gatekeepers quindi le gallerie d'arte i musei eh lo stesso discorso lo faceva anche Whale e Violetta Zironi ovviamente eh per quanto riguarda le case discografiche eh e poi ci sono chi lo utilizza anche eh ovviamente come ben sappiamo per ehm non utilizzare le banche ora quello che mi viene da pensare è che sia bitcoin che sia una shitcoin che siano NFT token monete per qualsiasi esso sia l'obiettivo per il quale si utilizzano questi strumenti lo si fa per eh riprendere finalmente i propri diritti la propria privacy e superare gli intermediari e secondo me è una cosa bellissima scusate fantastico assolutamente d'accordo con Andy tra l'altro credo che eh proprio quel senso di comunità eh di cui parlavamo prima nasce proprio da questo cioè nel senso eh abbiamo un po' tutti l'idea di essere i piccoli contro i grandi no ognuno nel suo nel suo piccolo scusate il gioco di parole però eh credo sia sia doveroso in questo caso fantastica Spotti sempre sempre apprezzabile il tuo lavoro io tra l'altro con Spotti se mi permettete un secondo volevo approfondire perché Spotti tra l'altro si muove su una chain non tanto convenzionale se non sbaglio è possibile Spotti detto chain poco convenzionale l'abbiamo persa sì che poi l'abbiamo persa secondo il mio punto di vista è forse l'unica che fa sentite nel modo veramente giusto sì Spotti aspetta che l'abbiamo l'abbiamo ritrovata eccoti eccoti no scusate è che stavo tentando di fare contemporaneamente tre cose di postare dentro i commenti di rispondere e non riuscivo a fare niente sì io sono uso Stargaze che è una una chain del del cosmondo del mondo cosmos e e lì infatti il mio nome su twitter è spotty.stars perché è un nome mintato e e quindi se mi volete mandare degli stars su quell'indirizzo sono benvenuti sempre apprezzati assolutamente sì spotty ma se posso se posso chiederti io avrei tantissime domande ragazzi veramente stasera magari non tanto sui nft anche sui nft però a me interessa tanto le storie di chi arriva in questo mondo cioè per esempio tu come sei arrivata in questo mondo e come mai hai scelto proprio cosmos allora sono arrivata su cosmos perché quando io ho iniziato ad avvicinarmi al mondo delle cripto ho iniziato in maniera disorganizzata con i miei colleghi verso la fine del 2017 abbiamo deciso che dovevamo entrare assolutamente e capire questo mondo e quindi ci siamo comprati tutti qualcosa io ho comprato un po' di eth di ethereum poi li ho lasciati lì perché c'erano mille altre cose da fare poi è arrivato il mercato orso e avevo anche tante altre cose da fare ogni tanto andavo lì guardavo e compravo qualche cosa a caso totalmente a caso e poi ho detto che forse era tempo di dedicarmi di più perché la mia idea quando ho capito dopo poco era che potesse essere il mondo dell'arte per me e quindi ho iniziato a fare prove su tutte le chain io ho un po' di monete ma non so ho un po' di sol ho un po' di poligon ho un po' di sand ho un po' di qualsiasi cosa e poi sul cosmondo ci sono arrivata perché ovviamente avevo preso anche degli ada per vedere per vedere un po' come erano tutte queste chain quali erano quelle più facili da usare più veloci eccetera allora il mondo cosmos in genere ha delle fi bassissime ha una velocità eccellente e tutto funziona anche se ogni tanto scoppiano dei drammi allucinanti validatori contro tutti insomma succede qualsiasi cosa però secondo me è una chain che funziona poi è uscita questa chain stargaze dedicata agli nft e ho pensato che potesse essere il posto adatto perché era appena nata quindi un posto dove magari se tu partecipi fin dall'inizio inizi anche a conoscere un po' le persone entri in contatto e entri anche un po' nelle varie community considerando che cioè io non conosco gli esseri umani di tutto il mondo se volevo poi farmi un piccolo mercato dovevo iniziare da qualche parte e e così alla fine lavorando per più di un anno facendo collezionando partecipando ai vari progetti come collezionista e ho iniziato a capire anche un po' come funzionavano le cose e così poi l'anno scorso ho lanciato la mia prima collezione facendomi aiutare da un progetto che aveva già lanciato la sua e quindi ero diventata una specie di side project e adesso invece posso procedere per i fatti miei perché nel frattempo sono stata featured sul launchpad di questa blockchain ma essendo una roba piccola è più semplice ovviamente per chi non si conosce è difficile avere successo riuscire a vendere eccetera devi essere particolarmente bravo per lanciarti direttamente su ethereum o altre chain enormi dove ci sono miliardi di persone e invece su stargaze diciamo che ci conosciamo quasi tutti anche se c'è abbastanza giro di vendite e ci sono anche alcuni progetti carini ma in questo modo almeno la gente sa chi sono un dettaglio sulla tua arte perché visto che quando si parla di nft si pensa sempre all'arte digitale ma tu non disegni con computer giusto ci spieghi un attimo in che modo qual è il processo che fai con la tua arte per poi arrivare al prodotto finale che è l'nft allora le prime collezioni ho fatto la fotogrammetria e poi l'ortofoto degli acquerelli nella le prime due e un mio collega mi ha aiutato perché noi al lavoro facciamo anche fotogrammetria a volte e e poi invece nella terza collezione alcuni sono riusciti a farli fare ad alta risoluzione con una buona qualità con uno scanner semiprofessionale in un negozio e quelli più grandi invece ho dovuto comunque far fare la fotogrammetria al mio collega e invece per i full art ho fatto le foto io non sono cioè sono ad alta risoluzione non sono ovviamente come una fotogrammetria però sono venute abbastanza bene e ma in questo caso il fatto è che comunque secondo me quello che conta di questa collezione è soprattutto il full art perché cioè non ha senso comprare questo nft se non vuoi farti spedire il full art ecco mentre delle altre collezioni magari ci sono alcuni che hanno comprato l'nft ma non si sono fatti spedire l'originale o almeno non ancora io poi non so se sono in parti del mondo dove al momento non è possibile farsi spedire le cose quindi aspettano tempi migliori e invece altri se li sono già fatti spedire se li sono incorniciati e mi mandano poi le foto tutti contenti e io anche sono contentissima praticamente utilizzi l'nft come se fosse una ricevuta fiscale a tutti gli effetti ma è diciamo che per chi acquista è quello che gli permette poi di dire spediscimi l'originale ma è anche proprio il certificato di autenticità tu hai i metadati dove ci sono delle informazioni sull'opera e quindi cioè e c'è una foto che ti fa vedere l'opera quindi è come se fosse quello che di solito viene fatto non so come si chiamino comunque i critici che ti autenticano un'opera è un certificato di garanzia che ne garantisce l'autenticità infatti ho ripeto dal mio punto di vista questo è il futuro per un sacco di cose allora io nel frattempo ho aggiunto ho messo in sovraimpressione il tuo il tuo post di ieri in cui ci racconti come li fai ragazzi andate a dare un occhio al profilo di Spotty perché vale davvero la pena e volevi aggiungere qualcos'altro Spotty altrimenti ho una domanda che vorrei girare a tutti quanti partendo da Volevo solo aggiungere una cosa sui nomi perché io ho un dominio su Unstoppable Domains e anche lì lo acquisti e ce l'hai per sempre quindi è un NFT che tu prendi e ce l'hai sempre e poi puoi fare il tuo sito io l'ho fatto se andate sul mio profilo c'è di Twitter ho messo questo link che va poi a questa pagina adesso devo ancora capire come personalizzarmelo più semplicemente perché ho usato un template messo a disposizione da Unstoppable Domains però diciamo che funziona l'ho pagato pochissimo quindi anche quelli sono e ho preso un cos'è Spotty01.nft grande belli tra l'altro Spotty io voglio dire anche questa cosa che il tuo modo di pensare mi piace di brutto nel senso no anche lì mi lancio su Ethereum dove si lanciano tutti o vado in una nicchia più piccola in cui faccio prima a farmi strada far sapere chi sono credo che questo ragazzi sia un consiglio per tutti gli artisti che ci stanno ascoltando estremamente valido perché competere all'inizio soprattutto in uno stagno più piccolo ha solo che dei vantaggi grazie grazie Spotty grazie a voi bocca al lupo no no davvero fantastico grazie a tutti